Gentili telespettatori, buona giornata. Sulla legge di bilancio Schlein dice che il ponte sullo stretto è l'unico investimento che fa il governo, ma un investimento inutile e dannoso. Allora, dice, sono state innanzitutto due straordinarie vittorie, parla di Abruzzo e Emilia Romagna. Due vittorie di tutta la coalizione che ha sostenuto Stefania Proietti e Michele De Pascale. Ciascuna forza politica e civica ha portato il suo contributo. Dentro questo quadro il risultato del PD, che ha fatto il 43% in Emilia Romagna e più del 30% in Umbria, è notevolissimo. Siamo cresciuti di 8 punti rispetto alle scorse regionali, ma anche alle europee di qualche mese fa. Per noi è un dato significativo, peraltro in Emilia Romagna il PD ottiene una percentuale maggiore di quella di tutto il centro-destra messo insieme. Non è una cosa da poco. Così, dice Elislein e al Corriere della Sera. E dice, abbiamo vinto per unità e umiltà. E aggiunge, il governo non ha messo un euro per i ristori. Ed è falso. I Emilia Romagna ancora li aspettano dalla prima alluvione del 2023. Ed è falso. Noi lavoriamo perché duri il meno possibile, visto il governo, visto che stanno facendo male. Hanno fatto tre manovre senza visione, senza investimenti e quest'ultima in particolare è recessiva. Ma che la manovra sia recessiva è un falso completo. È stata promossa dai mercati, altro che recessiva. La coperta è corta e bisogna usare bene le risorse. Questo governo però sta imboccando la strada opposta. L'unico investimento che ha fatto in tre manovre è l'inutile dannoso appunto sullo stretto di Messina. Questa è una manovra senza prospettive per l'Italia. Quindi noi lavoriamo per arrivare a elezioni prima della scadenza perché, visti i danni di questi due anni, non vogliamo vederne altri per i prossimi tre anni. Allora, lei vede danni in questi due anni e non ne vuole vedere nei prossimi tre. La realtà è che lei non vuole vedere i successi di questi due anni e non ne vuole vedere per altri tre. Cioè, la sinistra ha detto basta perché il governo che doveva accadere dopo due mesi è andato avanti per due anni con dei successi in economia, nel sociale, in Europa. E quindi loro hanno un livore ormai arrivato alle stelle. Quindi quando lei dice, visti i danni di questi due anni, voleva dire, visti i successi di questi due anni, e quando dice non vogliamo vedere altri per i prossimi tre, lei dice realmente non vorremmo vedere altri successi per i prossimi tre anni e trovarci cinque anni di successi. Ecco, perché poi sarebbe più difficile tentare di vincere nel 2027. Però parliamo di quello che lei definisce l'inutile e dannoso ponte sullo stretto di Messina. Partiamo dal primo. Il ponte è dannoso. È dannoso per che cosa? Per chi? È dannoso perché si cementa una parte per fare i pilastri? Dannoso perché? Perché i pilastri non sono dentro l'acqua. Quindi i pilastri sono fuori, sulla terraferma. Non vanno a danneggiare né i pesciolini, né le alghe, né quello che volete. È una campata unica. Dannoso per che cosa? Non si sa. Inutile. In realtà non è inutile. È la presa di posizione della sinistra che non vuole il ponte sullo stretto. È ideologica. Perché il ponte sullo stretto volle riprendere quest'idea Silvio Berlusconi. E da allora dissero che era assolutamente inutile. Infatti quando cadde Berlusconi la prima cosa che fecero fu quella di bloccare il ponte sullo stretto. Solo ideologia. Pura ideologia. In realtà il ponte è costoso. Beh certo un ponte costa. No. Ovviamente costa. Ma è un'opera che alla fine collega l'Italia. E evita di perdere un sacco di tempo. Ma torniamo indietro. Prima di tutto porta un sacco di lavoro al sud. Perché con l'indotto si arriverà magari anche a 40.000 lavoratori per anni. Quindi uno sviluppo anche delle due città dove ci sarà il ponte. Perché quelle persone che lavoreranno vivranno lì. Andranno al bar lì. Compreranno le scarpe lì. Andranno in pizzeria lì. Pagheranno la luce e tutto il resto. Quindi c'è un beneficio economico nelle due città e nelle aree circostanti. Perché poi c'è tutto l'indotto che ci lavora. Quindi anni e anni di indotto economico e di economia che tira. In più poi il collegamento. Io la traversata l'ho fatta tante volte. A differenza di Lellichelli che è andata lì una volta. E dice ma che ci vuole? In realtà il passaggio con la nave. La nave ci mette 20-25 minuti. Ma ci mette da quando parte a quando arriva alla banchina 20-25 minuti. Ma il tempo è molto di più. È molto più lungo. Perché tu dall'autostrada devi uscire. Andare verso il centro della città. Andare al porto. Devi andare alla biglietteria. A pagare. Devi metterti in coda. E devi aspettare il primo traghetto che arriva. E se il traghetto si riempie. Tu eri in coda. Devi aspettare quello successivo. Poi ci sono i 25 minuti di attraversata. Esci con la macchina. Ci vuole tempo. Perché il disimbarco ci mette un sacco di tempo. Quando poi tu esci. Esci praticamente in centro. In città. Devi riprendere. Uscire fuori. Andare verso l'autostrada. Tutto questo ti impiega minimo. Minimo. Tre ore. Tre ore. Invece passando con la macchina. Ci metteresti. Tre minuti. Da tre ore. A tre minuti. Quindi. Il passaggio da una parte all'altra. In tre minuti. Porterebbe anche più veloce il turismo. Perché se tu devi andare lì in macchina. In Sicilia. Devi far conto che. Quella attraversata col traghetto. Ti impedisce. Ti rovina la giornata. Devi mettere in conto una giornata persa in più. Quindi il ponte sullo stretto. Quando Elena. Dice che è dannoso. E inutile. E' una bugia ideologica. Lei è andata in Sicilia. Ha preso il traghetto. E dice. Ma sono venti minuti. Qual è il problema? Senza contare tutto il tempo. Che ha dovuto metterci. Dall'autostrada. Fino all'autostrada di nuovo in Sicilia. Tutto quel tempo. Che vi ho detto prima. Poi se tu ci vai. In un orario. In un giorno. Dove c'è pochissima gente. Magari hai la fortuna di arrivare. Prendi il biglietto. E c'è la nave quasi che parte. Corri. E ti imbarchi. Però anche nel migliore delle ipotesi. L'uscire dall'autostrada. Fino al rimbocco dell'autostrada in Sicilia. Ti passa almeno. Se sei fortunato. Un'ora e mezza. Nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore. Ci metti anche mezza giornata. E quindi le teorie di Lellichelli. Che sono quelle poi della sinistra. Che il ponte è inutile e dannoso. Sono false. Sono ideologiche. Grazie a tutti. E arrivederci a presto.